e bello a tutti ragazzi bentornati nel mio canale la mia voce un po così perché è la mattina presto oggi volevo un po allora come vi ho detto ho giocato molto cioè non molto abbastanza quello che serve e ho portato la squadra ad 81 ho fatto questi cambiamenti ho messo bellingham a centrocampo a land punta in signe alla sinistra si molti non sono adattati alla propria al proprio ruolo però è quello che potevo fare per aumentare il gen come vi ho detto non so se ve l'ho detto non mi ricordo vabbè volevo giocare un po nell'evento percorsi cona che più che evento è una campagna però vabbè magari per oggi la faccio tutta si dai poi taglierò il video quindi non so quanto tempo ci metterò per chi volesse sapere sto registrando questo video appena dopo il caricamento dell'altro ovvero quello di primo episodio di fifa non sto parlando molto ma perché se viene troppo lungo vorrei trovare dei momenti magari da tagliare tipo che ne dite se vi taglio ad esempio non lo so ditemi voi magari i momenti che vi interessano di meno così per i prossimi video magari li modello faccio dei tagli anche se nel primo video avevo detto che non dovevo tagliarlo ma alla fine l'ho tagliato perché veniva troppo lungo sto registrando pure col singhiozzo quindi proprio perfetto io direi che ragazzi fatemi sapere se avete visto l'altro video il primo video perché spero che l'abbiate visto ma dove tiri scusate ma è tutto rimbambito non sto capendo perché non ti muovi ragazzi tra l'altro appena finisco di registrare questo video non lo monterò manco subito perché devo uscire di casa e devo fare dei servizi quindi non so se uscirà oggi domani forse a domenica in realtà non so se caricarli cioè di sicuro non li registrerò in futuro per ora potrei registrarli la domenica dopo tutto non me ne so preparati granché magari se la domenica mi rilasso li monto se li ho montato già qualcuno lo carico poi ragazzi magari i video li caricherò piuttosto il pomeriggio perché comunque la mattina molti di voi stanno a scuola e bla 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 vi direte ma pure che li carichi la mattina noi li vediamo quando torniamo se li vedete in ogni caso stiamo giocando contro il marsiglia con il bari fatemi sapere pure sotto questo video se non avete visto l'altro ho detto che sceglierete voi lo stesso ma quello preferito quello con più voti lo metterò poi ho detto altre cose da scrivere nei commenti ma pure come tratterò il mio canale quindi andate a vedere il primo video almeno ve lo consiglio ho detto che non parlerò solo di fifa mobile però per ora iniziamo così ho detto che comunque mi piace molto il calcio tira non so perché si è buttato a land se non ci stava nessuno vabbè si stanno buttando tutti ok questo era fatto apposto allora come vi ho detto scrivetemi magari il vostro calciatore preferito intervento killer fatemi sapere il vostro calciatore preferito l'ho detto nel primo video questo nel caso vi interessasse dato che nel primo video non l'ho detto il mio giocatore preferito è leao raffaeleao del milan vabbè credo che lo conosciate nel caso non lo so cercatelo su google fate ciò che volete portoghese oppure il codice fiscale no quello non lo so però se lo sapessi non credo che ve lo darei ma perché è un motivo di privacy sua non che io lo conosca di persona cioè meglio io lo conosco lui no almeno non credo ragazzi non lo so ditemi se allora io non l'ho detto manco questo nel primo video porterò molto molto spesso anzi quasi sempre video gameplay è difficile che porti blog perché comunque mi piace più lo stile gameplay ok magari senza webcam perché mi dà altamente fastidio poi quando monto i video quindi niente poi come vedete ho segnato magari che ne dite se vi porto minecraft o cose del genere ovviamente bedrock perché dal computer in caso non registrarlo puoi metterlo cioè metterlo sul canale perché io voglio averlo solo sul telefono poi magari in futuro si penserà di metterlo sul computer l'account ma per ora mi è più comodo così quindi la java edition non credo che la porterò porterò solamente la bedrock edition se vi piacerà ovviamente perché se non vi piace la porterò o poco si ho preso già zidane ma credo che l'avevate intuito dato che vi ho fatto vedere la squadra e niente la partita sta per finire gol di gol di al sessanta settesimo ora credo che temporeggerò comunque siamo già a otto minuti di rec quindi vedete come passa subito il tempo credo che farò tipo quindici minuti e mezzo e poi tolgo un po' dal video e lo carico l'altro video è durato tipo quattordici minuti e qualcosa con tutti i montaggi senza montaggi senza montaggi era durato 17 minuti quindi io ho tagliato 3 minuti di video inutili e poi l'altro video è andato bene cioè mi sono trovato bene a registrarlo su fifa perché sul vecchio canale portavo giusto strumble guys o altri giochi strumble guys vi devo dire la verità non mi piace più di tanto per questo poi sull'altro canale che avevo che ora non esiste più l'ho tolto e non l'ho non l'ho più usato stumble guys non l'ho più registrato e ora mi trovo bene su fifa quindi credo che lo porterò spesso anche perché come ho detto lo ripeto per la milionesima volta mi piace il calcio se volete posso portarvi anche magari i giochi di tennis di basket giusto per provarli ma non credo che li porterò cioè tipo se mi dite prova questo gioco io lo provo porto un video ma non non credo di giocarlo più non credo di giocarlo fare serio cose poi se vi piace se mi piace lo porterò lo porterò sempre se me lo consigliate perché se non mi consigliate giochi non credo che 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 li posso sapere anche perché io ragazzi ragazzi la partita è quasi finita ehm 4 a 0 sì ora è finita 4 a 0 per il Bari Marsiglia allora direi che ok 500 gemme vediamo si parte dal 45esimo la potremmo fare allora prima andiamo su missioni poi andiamo nel negozio e riscattiamo due pacchetti giusto così prima andiamo nel passo perché ecco prendiamo le 100 gemme e poi il giocatore sperando che ci serva sì ok buono prima però andiamo a vedere nel negozio apriamo questo ne apriamo due ok ok no workout e cdc ok li devo rendere andiamo su squadra la sistemiamo la sistemiamo un attimo mettiamo così e basta solo questo posso sistemare ora direi che andiamo di nuovo facciamo giusto l'ultima partita perché siamo a 12 minuti 13 minuti di rec contro il martiglia che poi la mia squadra del bari e ci vediamo non lo so al settantesimo e ragazzi siamo arrivati al settantesimo cosa vi posso dire ora non lo so vediamo un po' vediamo un po' ma siamo ancora 0 a 0 strano comunque nel mentre ho scoperto che non giochiamo contro il marsiglia ma siamo noi che comandiamo il marsiglia per fortuna direi finisce sta partita e spengo la rec perché poi come ho detto ho da fare e devo pure montarlo più lungo è il video più difficile per me montarlo e niente allora scusate questo silenzio ma sto cercando di non farti fare gol anzi piuttosto sì mi diverto a fare così perché è un'umiliazione gigante per il portiere bella esultenza direi e ragazzi non lo so allora muoviti a finire la partita mi dico a me stesso perché come ho detto più lungo è più difficile per me montarlo e siamo già 17 minuti per me di rec ragazzi la partita è finita e direi che possiamo fermarci qui vi ricordo di lasciare un bel like iscrivervi e commentare con le cose che ho detto nel primo video in questo e non credo che giocherò camera ma potrebbe essere ci vediamo ad un prossimo video ciao